Roberto, sono il salutatore e ti chiedo un saluto a tutti i miei fan, i fan di tutti quanti che ci sono qui dentro Quindi un abbraccio a tutti e continuate a seguirci a che ci fa piacere Il grande giorno, il grande giorno, il big day 22 di dicembre al cinema Non mancate, ricordiamo il tuo ruolo Abbiamo fatto un cardinale, cardinale finedio Ecco qua, non mancate che ne vedrete delle belle Un saluto a tutti quanti Ciao, ciao, ciao Ciao, ciao